Dopo quasi 24 ore di volo e uno scalo a Dubai, Novak Djokovic è tornato in patria atterrando a Belgrado. Il serbo era atteso da una folla di forze dell'ordine e giornalisti cui non sono state rilasciate dichiarazioni. All'esterno, tifosi osannanti sono rimasti delusi in quanto abilmente dribblati. E con la Francia che ha ufficializzato l'obbligo di Green Pass rafforzato anche per gli atleti provenienti dall'estero, all'orizzonte incombono dubbi sulla sua partecipazione al Roland Garros. Mi spiace tanto per Novak, dice una ragazza. Spero possa giocare in altri tornei come il Roland Garros. Gli mandiamo tutto il nostro amore e la nostra energia positiva. Non conosco i suoi prossimi passi. Spero trovi il modo di giocare negli altri tornei lasciandogli la libertà di scelta se vaccinarsi o meno. Con tutti i tasselli che via via si vanno definendo, ora i serbi sono interessati a due cose. I prossimi passi di Novak, se rimarrà in Serbia ad allenarsi o andrà in Spagna, e in secondo luogo cosa accadrà in riferimento ai prossimi tornei. Abbiamo notizia che gli organizzatori del Roland Garros stanno considerando di escludere i giocatori non vaccinati, quindi tutti sono ansiosi di sapere se i problemi per Djokovic continueranno.